Autobus bandiere e slogan di protesta davanti al tribunale di Kiev che ha pronunciato la sentenza di colpevolezza per Yulia Timoshenko. Sono almeno in 2000 a mostrare il loro sostegno alla leader dell'opposizione e a protestare per un processo che giudicano politico. Una manifestazione blindata da 500 agenti intenutanti sommossa. Grande la tensione in attesa che la Corte quantifichi l'entità della condanna. Secondo i media locali si potrebbe arrivare anche alla depenalizzazione del reato e alla libertà. L'obiettivo infatti sarebbe piuttosto la condanna pubblica della Timoshenko.